da fuori e portarlo dentro alla tante si chiama delle palline di allumina che servono appunto per il risucchio dell'ubilità sui rassi per i miei lavoratori qui che entrano da questo urbino invece nella realtà un gruppo c'è questa bombola qua che è molto costruita un gruppo aperte e dopo che viene ancora un carico di 4-5 bombole metterò di 4-5 sono i più troppi, sono i limitabili e adesso c'è qualcosa lì sopra, c'è quello come vedete ci sono tutta una serie di limiti da ripart, da ripart, da ripart, da ripart, da ripart, di questo urbino già dentro l'udio ci sono tutti i circunstiti della miscela di 38 e 38 ecco, questi che vedete qui sono appunto gli staff motor che ci permettono di fare le mobilità vediamo che il terminale è 7 MW e l'unico tipo di controllo che non si può scaricare da sovassi sono questi prodicelli che si vedono qui che sono collegati a delle pallone, quindi questi motori servono solamente a far azionare questa pallone quando si accende il comando, quando lo tramite qua, che si spiega sul comando, ci sono due regolazioni di regolazione e dopo prendere anche questo ruolo, perché ci spostiamo sulla pallone di scuola quindi questi sono 19 motori che hanno tutte queste regolazioni di controllo qui invece, da questo pettine qua, come vedete questo è proprio il pettine di carica dove questo è il cavo che vi porta la tensione al pettine e meccanicamente lo porta alla zona superiore della macchina questo è il ruolo inferiore, qua ci sono dei cuscimenti, qua queste molle che vedete con questi ammortizzatori è tutto un sistema per... un sistema di ammortizzatori vuol dire che accendiamo a qualche problema o a qualche altro dei 7 meccanici, a volte della particella e le pompe dove sono? le pompe non si vedono perché sono giù perché dentro alla pratica la pompa si distrugge 4 ore e il tubo va già in vuoto per cominciare a lavorare per poi invece rendere operativa tutta la macchina quindi portare giù tutto il coperchio e avvitare tutte le viti e inserire fino a 14 atmosfere il gas ci vuole anche lì un'altra giornata di lavoro più o meno queste sono una patina appunto di 3 ore di service della macchina che inizia prima ad accendere il quadro per fare dei test per riportare la cinghia per accendere tutti i dispositivi che ci sono in alto questo motorino viene fatto girare quindi questa carrucola viene fatto girare ovviamente è ridotto 40 a 1 40 giri fa la start motor e un giro fa la carrucola e questi cordini vengono tirati o rilasciati quindi faranno funzionare questi vari anche che adesso vedremo alla parte la fibrotica però la fibrotica questi sono cordini interna quindi non fanno scaricare la corda stranica non passa la fibrotica la fibrotica quindi è molto poco rocce quindi c'è una stabilità di energia anche sotto la macchina non si può finire un giorno la macchina grazie alla produzione di un genero prima al mare non è un altro sistema parallelo certo ma deve avere un proprio controllo e con i cordini in cui se non è passato fidabile si può fare proprio un sistema non mobile si può rilasciare andiamo a vedere la parte sopra su queste cordone qui o su queste che vedete qui c'è proprio un baria vedi e qui questa è la scella una piccola cubola che viene fatta in carica quando si viene incavata qui e serve appunto per proteggere tutta questa elettronica da eventuali silari elettrostatiche e non solo ma serve anche come un serbatoio di carica per la pressione qui invece vedete il peccone superiore e il sal apprezzare il tipo terminale altra curiosità della macchina voi direte ma come vanno da alimentare questi dispositivi perchè io da giù come dicevo prima non posso portarmi in carica per alimentare per questi circuiti tant'è vero che io sono dei cordini di tecco e miniatri di plastica anche i nostri servizi della plastica potrebbero portarmi giù la peccone superiore oltre che il lavoro di rinvio funziona anche da alternatore quindi mi genera come una linea della bicicletta mi genera la corrente necessaria per portare il volente dei cinque lassi che dicevamo prima vediamo e qui ci sono tutte le valvole che servono poi per l'apertura e la chiusura scusate passo di qua vedete qui è la sorgente che noi abbiamo in mano che adesso è montata qui e lui genera una delle frequenze a delle antenne che si vediamo da qui queste due antenne portano la delle frequenze su questa altra ma poi c'è un magneto e ecco qui dentro adesso c'è una serie di poi poi c'è un'altra regola della trissione poi c'è un'altra sinistra e questo è un tripletto com'è che viene in questa mano e mi porto così io sento questi tampi magnetici fatti da questi latitori e comincio a fare così e quindi appare diciamo una liga come la sua televisione diciamo ecco su tutti i catolici in realtà non fa proprio e questo è il tripletto che si ha il fuoco 1 poi ci sono i bias di ritraccia per lo spostamento questo vertigo diciamo 1,8 nanosecondi di pacchetto per 330 nanosecondi di urbano per piccolo piccolo per piccolo per piccolo